Lunerina, Albis, tragico a Benevento per il ritrovamento del cadavere di un 24enne. La macabra scoperta in mattinata quando un residente mentre passeggiava con il suo cane ha notato il corpo del giovane alla base di una scala di emergenza, a servizio di un palazzo di quattro piani tra via dei Mulini e via delle Puglie. Uno stabile che in passato aveva ospitato anche alcuni locali dell'Università del Sannio, tra i quali anche la foresteria per gli studenti. Inutili soccorsi per il 24enne, morto probabilmente da alcune ore. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione di Benevento, che hanno effettuato i rilievi con i colleghi del nucleo investigativo. Su disposizione del magistrato di turno, sul luogo del dramma, anche il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro, che ha effettuato un sopralluogo ed effettuato una prima visita esterna su disposizione del magistrato. Al termine dei rilievi, la salma del 24enne è stata poi trasferita all'obitorio dell'ospedale Sampio di Benevento per gli ulteriori accertamenti medico-legali. Una tragedia che ha segnato il lunedì in Albis a Benevento. Sembra che il giovane non desse sue notizie alla famiglia da alcune ore, tanto che erano stati allertati anche i carabinieri.